Zelig sta per fare il suo debutto con una nuova edizione o si tratta della replica delle puntate del 2021? Scopriamo tutto quel che c'è da sapere sulla programmazione di stasera su Canale 5 e i comici che saliranno sul palco stasera. Stasera in tv, lunedì 11 luglio 2022, andrà in onda Zelig sotto la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, battiti live 2022, quante puntate sono? Calendario serate, scaletta, cantanti Zelig stasera 11 luglio 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in tv 11 luglio 2022 non è, una nuova puntata di Zelig, si tratta invece della replica dell'edizione 2021 condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Zelig replica, quando va in onda? Quante puntate? L'appuntamento con la replica di Zelig è ogni lunedì sera in prima serata su Canale 5. Le puntate dell'edizione 2021 sono complessivamente 4. Zelig stasera, a che ora inizia? Orario, durata, quando finisce scopriamo, quindi, quando inizia stasera la replica della puntata di Zelig, l'orario è dalle 21.20 circa e finirà intorno alle ore 00.40. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore. Cast comici, chi sono gli ospiti di oggi? Ma quali sono i comici che fanno parte del cast di Zelig 2021? Il pubblico di Canale 5 potrà ritrovare i personaggi che hanno fatto la storia dello show. Ogni comico che compone il cast avrà a disposizione 4 minuti e potrà portare sul palco sia un vecchio personaggio, diventato negli anni vero e proprio tormentone. Ecco chi saranno i comici sul palco. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.